Eccomi qua, un po' di assenza fa bene. Mi ha fermato l'altro giorno un signore, arriva che io non conoscevo, scendevo verso l'inviolata e vedo un signore in bicicletta dai capelli bianchi che se mi ascolta lo ringrazio, il quale mi ha fatto i complimenti e mi ha detto che le trasmissioni sono accettabili. Mi sono un po' consolato perché pensavo che fossero accettabili solo, ripeto, perché vi do semplizzoni che la chi me guarda. Dunque, oggi l'argomento è la corruzione. In una puntata abbiamo parlato delle raccomandazioni, abbiamo detto che le raccomandazioni vengono dalla Chiesa, cioè nessuno parla col Padre Eterno, ma il va dalla Madonna pregando che la parla il Padre Eterno, oppure il va da Sant'Antonio pregando che il va dal Padre Eterno. E le raccomandazioni abbiamo detto, ma la corruzione! Adesso vi spiego da dove viene la corruzione. Il sottoscritto ha ricoperto un posto di responsabilità dei farmacisti per circa 25 anni e in questa occasione andavo frequentemente a Roma. Quando sono andato le prime volte il sottoscritto, credo che mi conosciate abbastanza, ero abbastanza duro su certi sistemi che si adottavano quando c'era qualche provvedimento governativo. Perché quando c'era qualche provvedimento governativo che non piaceva, che non piaceva alla categoria o che non fosse piaciuto alla categoria, ero magari, parlami con Ogello, parlami con Franceschino, parlami con Altissio, eccetera. E c'era tutta una serie di cose alle quali io apertamente mi ribellavo. dico, allora il segretario della federazione mi chiama e dice, senti Tamanini, puoi venire da me in ufficio che ti devo parlare? Per bacco. Dopo la riunione vado in ufficio da Caferri, così si chiamava Caferri. E mi siede a mo' di papa, lui domanda, e mi di fronte, non in poltroncine vicine, senti Tamanini, io devo raccontarti un aneddoto che è anche vero, però non ha abbiamo le parole, però te lo devo raccontare, perché tu non hai ancora capito in che ambiente si vive qui a Roma. E ti dico, Caferri, parla al mio soffizio. Allora senti, al regno di Napoli c'era il re Ferdinando, ma dico, ma parli che anche uno di questi Ferdinandini è morto nel mio paese. Ecco, quello che è morto nel tuo paese. Allora, che abitudini aveva re Ferdinando, mi sta per dire qualcosa? Dillo, dillo. Ah, lei era Francesco, allora lei era un altro, mi correggono, è una trasmissione, voi non avete neanche l'idea, allora ti hai visto uno che mi fa segno, no, no, non è Ferdinando, è Francesco. Allora quel che parlo meno è Ferdinando, non è quel che è morto? Ecco, beh, ti secondo, un'informazione una dietro l'altra, uno Francesco, questo segna secondo. Allora era re Ferdinando. Un giorno chiede udienza a re Ferdinando, il capo dell'ufficio dell'ambiente, allora deve essere stato l'ambiente, o delle costruzioni, insomma un personaggio che aveva la sovraintendenza a quella che era l'urbanistica di allora. Don Ciccio lo chiamavano, Don Ciccio chiede udienza a re Ferdinando, allora le udienze per la verità ai funzionari venivano concesse con una certa urgenza perché era il re un po' l'amministratore. Don Ciccio arriva e dice eccellenza, io tengo problemi, tengo problemi, che problemi hai? Ho tre figli, arrivo al quarto, insomma lo stipendio dice non è, non ce la faccio, dice non è che lei può farmi aumentare lo stipendio, diceva la Ferdinando, non parliamo di soldi, dice guarda per l'amor di Dio che siamo pieni, no no no, dice guarda Don Ciccio mi dispiace, dice guarda non è possibile se non ti piace, vai dall'altra parte, caggia di, caggia di, caggia fa, caggia fa, caggia fa, va beh, Don Ciccio insiste, dice guarda veramente ho famiglia e sta per uscire e quando sta per uscire, il re lì doveva firmare, Don Ciccio un firmà, un firmà, non firmare, chiaro, hai capito? Un firmà, questo esce dalla porta lì, scritto che io stia, c'era anche il re, ma non firmare, che cazzo, mi fanno firmare i documenti, ma adesso non posso firmare, però quando è arrivato a casa e si è consultato con la moglie, la moglie ha intuito, ha intuito, e dice scusa, abbia pazienza, un firmà, anche tu come il re un firmà, dice quando arriva un documento tu non firmi, come faccio, c'è un funzionario che non firma, un documento regolare, ha già firmato, non firma, Don Ciccio non firma. Tutti gli anni a Caserta, questa è verità, c'era una specie di sfilata per gli auguri di fine anno davanti al re con la moglie, eccetera. Allora, il primo anno passa Don Ciccio insieme a tutti gli altri con la moglie e due figli a piedi, l'anno dopo sfilata e Don Ciccio non è più a piedi, è in carrozza con un cavallo. Poi il re lo guarda, Don Ciccio lo saluta, piace. Il terzo anno due cavalli, carrozza un po' più bella, quarto anno quattro cavalli, una carrozza molto bella. E allora il re si rivolge a uno dei funzionari, Machilli, c'è Don Ciccio. Sì, è Don Ciccio. Dì che domani venga da me. Il re lo chiama, Don Ciccio arriva, Eminenza, Eminenza, Eccellenza, Eccellenza, tutti i soliti salamelecchi. Adesso Don Ciccio ha da firmare, adesso, caro Don Ciccio, devi firmare. Conclusione di Caferri, Tamanini, questo è l'ambiente, tu vivi in questo ambiente, qui se non corrompi, non va avanti un cazzo. Ma com'è più, che, 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 ma indossente qua. Vedrai, io, ti ho fatto questo, questa, ti ho raccontato questa storia che alle volte si dice che sia vera, che non sia vera, ma è molto vicino al vero. Qua dice, caro mio, funziona così, se sganci le cose vanno, se non sganci le cose non vanno. poi sarà. Ecco, così è nata la corruzione. Cari signori, dappertutto, quando le cose, la gente viveva con molto meno, che non c'erano due telefonini o tre telefonini in casa, non c'era la macchina, non c'era la villeggiatura, non c'era questo, non c'era l'altro, le cose andavano diversamente. Nel momento in cui le spese familiari o di ambiente sono leggermente aumentate, dico leggermente per non dire, ragazzi, abbiamo raggiunto la saturazione, e purtroppo le cose in questo paese si dice che vanno in questa maniera. Allora, mi raccomando signori che mi ascoltate, firmare, firmare. Avrei concluso. Grazie. 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 Grazie.